In questa puntata, approvata la prima variazione di bilancio, disforia di genere in commissione sanità. Undicesima edizione della campagna Dentro le mura. Presentate le gare ciclistiche di Gran Fondo. Approvata con voto a maggioranza la prima variazione al bilancio di previsione 2024-2026 della Regione Toscana che recepisce gli emendamenti proposti dal Presidente della Giunta, Eugenio Gianni. Sono molto contento anche dell'andamento del dibattito che rivela apprezzamenti e consapevolezza che con questa variazione bilancio chiudiamo definitivamente quello che è il bilancio 2023 sulla sanità. Siamo riusciti in questo bilancio a contenere quello che erano le spinte per una riduzione di servizi e per tagli. E invece ecco che proprio andando a trarre le somme, voi sapete che il bilancio della sanità deve essere chiuso per il 30 aprile come ogni anno, noi riusciamo a far quadrare i conti e a dare alla sanità toscana invariata capacità di servizi, anzi di espansione, in tutta una serie anche di interventi che riducono le liste d'attesa, che potenziano i pronti soccorsi e contemporaneamente a far quadrare quello che è l'equilibrio economico-finanziario della Regione. All'ultimo momento ho avuto la possibilità anche di disporre di poco meno di 5 milioni di euro per far fronte ad alcune esigenze e quindi ripercorreremo quest'anno la strada di un contributo, si tratta di mezzo milione, 500 mila euro per le donne che sia per tumore o per altre cure molto difficili hanno la necessità della parrucca perché la loro calvizia per le cure che intraprendono non debba essere così evidente. In secondo luogo 2 milioni e mezzo per le indennità premiali per i pronti soccorsi che servono per motivare i medici a stare nei pronti soccorsi, magari negli ospedali diciamo di aree più esterne della Toscana diffusa. E poi quasi 800 mila euro per coprire tutte le domande delle famiglie che si trovano a avere situazioni di disabilità e che avevano presentato la domanda che non eravamo riusciti ad evadere nel contesto del 2023. E poi 150 mila euro per l'Istituto della Resistenza, Toscano della Resistenza, del resto sono gli 80 anni dalla liberazione che vivremo nei prossimi mesi perché da aprile a settembre uno per uno arriveranno le ricorrenze dei momenti drammatici della liberazione del 1944. Insomma una serie di misure che si aggiungono ai 500 mila euro sui forestali ovvero una tranquillità nella retribuzione di questi operai che sono direttamente alle dipendenze delle unioni dei comuni e che per la situazione economica finanziaria degli enti locali altrimenti avrebbero avuto difficoltà nell'ottemperare a quello che è il loro lavoro attraverso la retribuzione. La Lega vota contro questa prima variazione di bilancio che era stata inizialmente presentata come un mero accertamento dei conti e che invece ha visto ancora una volta arrivare in aula al di là delle dichiarazioni in Commissione di Gianni una serie di emendamenti. Al di là del merito occorre individuare sicuramente una mancanza di programmazione e a volte una difficoltà di interlocuzione corretta e con la opposizione. Faccio notare per esempio che ci sono 8 milioni per la cultura dei quali avevo chiesto scheda analitica ormai da due sedute di Commissione fa e che ancora praticamente non mi è arrivata. C'è uno storno per quanto riguarda i costi della sanità. Sappiamo che sono stati aumentati le tasse dei Toscani addizionali per circa 200 milioni e 10 milioni erano stati destinati all'alluvione. 190 milioni invece erano stati destinati appunto per coprire i buchi della sanità. Di questi 190 milioni abbiamo visto che c'è stato un accertamento di 168 milioni quindi 22 milioni che si potranno spendere in modo differente. Di certo siamo in attesa del provvedimento della Corte Costituzionale per quanto riguarda i payback. Una data capestro quella del 22 maggio ma per far sì che vi possa essere una gestione oculata della spesa ci vuole programmazione e ci vuole anche una visione nuova di modello socio sanitario perché noi siamo per una sanità pubblica ma siamo anche per una sanità efficiente e funzionale. Questa variazione sulla quale c'erano molte aspettative per superare delle difficoltà strutturali appunto della sanità ma non solo ha deluso. Ma la cosa più grave è che siamo arrivati di nuovo all'ultimo momento a presentare emendamenti anche molto importanti come la copertura di tutto il 2023 per le famiglie con migliori e con disabilità con un emendamento appunto presentato in aula nel momento stesso dal Presidente Gianni. Mentre invece si sono andate poi di nuovo a coprire tante altre voci di bilancio di cui probabilmente si può fare a meno che possono essere finanziati negli anni successivi come ad esempio il campo da golf del Casentino piuttosto che altre iniziative che appaiono essere molto più spot. Non abbiamo votato pur votando favorevolmente a quegli emendamenti che secondo noi sono il minimo indispensabile ma ancora non si ha la stabilizzazione finanziaria di misure come vita indipendente, le misure per i minori disabili e per le loro famiglie e altre misure, altre strutture che aspettano da molti anni di essere finanziate ma probabilmente hanno il torto di vivere in aree, di essere stanziate in aree che probabilmente dal punto di vista elettorale in questo momento fanno meno gola perché questa giunta, quello che finora ci ha sempre mostrato è questo estremo opportunismo dal punto di vista della distribuzione delle risorse. Una variazione bilancio positiva, le modifiche apportate e richieste dal Governatore sono tutte più che ragionevoli, a partire da quello che riguarda i nostri forestali, a partire da quello che riguarda l'aiuto ai comuni, a partire da quello che riguarda invece e le consideriamo due vittorie, i fondi per evadere le richieste di supporto delle famiglie che hanno figli disabili, soprattutto affetti d'autismo e il fatto che Abba venga per sua direttiva ancora riconosciuta là dove fino ad oggi questo tipo di servizio veniva offerto alle famiglie e ne facevano richiesta. Trovo che sia stato uno sforzo importante da parte del Consiglio regionale ma soprattutto da parte della giunta e del Governatore che si sono resi conto di quanto fossero necessarie queste risorse che noi non potevamo che sostenere. È una variazione di bilancio che in realtà ripropone un tema ormai sollevato da tempo dalle opposizioni una totale assenza di programmazione, uno sforzo finanziario come quello che è stato richiesto ai cittadini toscani con l'aumento dell'IRPEF che doveva servire a ricucire quello che era stato lo squilibrio del bilancio della sanità in realtà oggi assistiamo nuovamente ad un bilancio che ci viene portato in aula in fretta e furia con degli emendamenti che ci sono stati illustrati stamattina e che di fatto però nulla sposta rispetto al tema centrale che è quello della programmazione e della razionalizzazione della spesa sanitaria. Sono stati ancora una volta fatti degli interventi estemporanei non c'è un filo conduttore sulla programmazione si illustra una sorta di razionalizzazione della spesa sanitaria ma senza saperne esattamente il contenuto in poche parole quello sforzo che era stato chiesto appunto ai cittadini toscani con l'aumento dell'IRPEF oggi non riusciamo francamente a comprendere che tipo di contributo potrà dare alla ristrutturazione del bilancio della sanità. Scorrendo il lungo elenco delle sovvenzioni e delle variazioni che ci sono state a me mi sembrano tante marchette politiche lo dico chiaramente guardando in camera perché guarda caso ci sono tanti soldi che vengono erogati a dei territori che vanno al voto per cui probabilmente è il gioco della politica non mi piace non so se lo faremmo anche noi se ci fossimo in maggioranza ad oggi posso soltanto dire che sono contrario a quello che succede fatto da questa maggioranza. Lunga seduta della Commissione Sanità dedicata alla disforia di genere la relazione del Ministero della Salute è stata esaminata dai commissari che si sono confrontati a lungo e hanno posto molte domande. Intanto sono emersi 11 punti rilievi molto precisi, puntuali che il Ministero ha fatto alla Regione Toscana in merito alla disforia di genere primo fra tutti l'assenza del neuropsichiatra infantile elemento fondamentale per somministrare i farmaci ricordo che si tratta a bambine di 10, 11, 12, 13 anni una grande sofferenza per le famiglie l'avevamo detto fin dall'inizio insieme al senatore Gasparri che era assente il neuropsichiatra infantile la relazione lo conferma oggi emerge anche questo ennesimo dato tra l'altro evidenza un'altra cosa una novità di oggi e stamani mattina l'Avvocato Bernardini De Pace ha presentato un esposto alla Procura della Repubblica in merito a come dire sottolineature di carattere penale sulla gestione dei farmaci a careggi quindi questa è la novità di oggi dovete parlare con l'Avvocato Bernardini De Pace che vi dirà qualora lei volesse riferire in merito a questo però stamani mattina hanno depositato un esposto quindi un nuovo esposto su questo tema e naturalmente noi aspettiamo che si faccia chiarezza anche nel merito di questo nuovo esposto aspettiamo che la Procura faccia il proprio percorso però la politica finalmente mette un punto Questa commissione è stata molto utile per richierire fatti e cioè che a careggi non sono state violate nessuna delle norme che sono previste è stato rispettato il PDTA nessuna contestazione è stata fatta sull'uso del farmaco e quindi da quello che sembrava l'opposizione insomma la questione principale denunciata cioè che addirittura si dovesse chiudere il centro sulla disforia di genere e interrompere l'uso del farmaco nessuna contestazione su questi aspetti c'è da parte della relazione ministeriale che conferma nella sostanza la correttezza anzi dice che bisogna rafforzare il centro di careggi e altresì consiglia alcuni aspetti di miglioramento nell'organizzazione che siccome sono indicate verranno adottate nelle prossime settimane Fino al 12 maggio torna Open Week da Leonardo a Pinocchio l'imperdibile appuntamento primaverile per immergersi nella storia, nell'arte e nella bellezza naturale della Val di Nievole Sì, sono qua a questa presentazione Gran Fondo Città di Lucca fa molto piacere perché quando si tratta anche il mondo sciloturistico è bello perché si pedala non saprò ancora se sarò presente domenica prossima però vediamo di esserci e niente fanno sempre piacere come ti ripeto queste cose si è formato anche un circuito a livello toscano di questo Gran Fondo so che sono cinque e nulla speriamo di partecipare alcuna anche con la mia presenza pedalando insieme agli altri amatori Grazie ai paesani di Bugiano Castello è possibile aprire e visitare 16 giardini privati normalmente appunto chiusi al pubblico nelle due domeniche del 28 aprile e del 5 maggio dove come potete vedere anche dalle foto c'è un trionfo di bellezze di fiori ma soprattutto la fioritura degli agrumi che è la cosa che caratterizza tutti i giardini di Bugiano e l'intero paese Presentato il ricco programma di corse ciclistiche in calendario tra primavera e estate in provincia di Lucca promosso dall'associazione Pedale Pesciatino Credo che le Gran Fondo e poi queste che sono un programma di Gran Fondo sono anche una modalità per far avvicinare coloro che non sono esattamente dei professionisti ma che consentono comunque di partecipare di vivere la competizione e quindi davvero giornate di sport di salute nel segno di una Toscana splendida che fa da cornice ideale ad ogni competizione sportiva in particolare nel caso del ciclismo con uno sport che consente di assaporarne a pieno i colori soprattutto insomma in questa primavera che si sta affacciando alle nostre porte Partiamo con Lucca siamo a 500 iscritti partiamo dalle mura di Lucca facciamo un giro meraviglioso per la Lucchesia per poi ritornare il 14 aprile Il secondo evento è a Bagni di Lucca la Gran Fondo del Vento si chiama Gran Fondo del Vento perché passa dalle Grotte del Vento il terzo è la Gran Fondo della Versilia siamo alla 26esima edizione dell'evento parte dalla cittadella del Carnevale con il lancio dei paracadutisti ci saranno una cinquantina anche di di militari perché abbiamo coinvolto l'aeronautica militare a pedalare con noi nella Gran Fondo della Versilia poi arriviamo a Pescia quindi con la Tuscan Extreme che il nome ricorda qualcosa di estremo andiamo a fare 4000 metri di dislivello 220 km anche se quest'anno ci sono tre percorsi quindi questo è più duro poi ce ne sono anche di più tranquilli per poi finire a rievocare un altro Gran Fondo che era anche questa è una quindicina di anni che non c'era più che è la Gran Fondo della Garfagnana noi l'abbiamo chiamata Gran Fondo dei Laghi della Garfagnana il 21 di luglio quando qua giù è caldo lassù staremo belli al fresco grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti